Salve buonasera a tutti, inizio di ottava molto difficile per i principali listini mondiali condizionati dall'acquirsi delle trenzioni tra gli Stati Uniti e la Cina, dove già la scorsa settimana Donald Trump ha alzato dal 10 al 25% le tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Ma la risposta dalla Cina subito è arrivata, aprendo a questo punto un nuovo capitolo della guerra commerciale. Per quanto riguarda la Cina, a partire dal 1 giugno, alzerà i tassi su 60 miliardi di beni provenienti dagli Stati Uniti. La mossa non farà che peggiorare la guerra commerciale, già infuocata, e andrà a colpire più di 5 mila beni americani. Ma andiamo a vedere quali sono state le listature delle principali borse europee. Dax chiude a meno 1,50%, Ibex a meno 0,81%, CAC di Parigi che chiude a meno 1,18%, Fuzzi Londra, meno 0,50%, Fuzzi Mib che prende insieme al Dax le peggiori piazze, chiude con le peggiori performance, solo prima il Dax, la seconda, quindi Piazza Affaria, meno 1,30%, cedendo, abbassandosi a quota 20.593, proseguendo appunto la discesa già iniziata la settimana scorsa, che è stata la peggiore dall'inizio dell'anno. Peggiori performance di giornata per quanto riguarda Piazza Affari per STM che ha perso oltre il 5%, confermandosi tra i peggiori titoli dall'inizio mese, molto male anche Leonardo, meno 4,66%, scivolata con la convinzione, sotto la soglia dei 10€ il titolo del colosso della difesa è arrivato appunto a cedere oltre il 5%. Tonfo per Geox che chiude anch'esso a meno 13,27%, ma per quanto riguarda invece le notizie macroeconomiche la giornata odierna è stata assente, non ci sono stati notizie interessanti, quindi passiamo direttamente a martedì domani 14 maggio dove già alle 8 di mattina abbiamo l'indice di prezzo al consumo della zona euro, poi alle 10.30 dalla Gran Bretagna due indicazioni interessanti, l'indice dei salari medi inclusi e la variazione delle richieste dei sussidi alla disoccupazione. Alle 10.30 poi sempre dalla Gran Bretagna il tasso di disoccupazione, il dato di questi tre è il dato più interessante. Ma attenzione alle ore 11 dove avremo anche l'indice ZEV su sentiment dell'economia tedesca e poi sempre alle 11 per quanto riguarda la zona euro la produzione industriale, mentre invece nel pomeriggio non ci sono indicazioni degne di nota. Detto questo andiamo a vedere subito quello che è successo, come è andata l'operatività per quanto riguarda la giornata odierna, beh praticamente partiamo dagli indici, partiamo dal DAX, in questo momento se andiamo ad analizzare con attenzione vedete abbiamo una situazione molto interessante che si sta aprendo sul DAX, c'è la possibilità appunto di un rimbalzo dopo la movimentazione ribassista di questa giornata partita con un gap molto interessante. questa situazione quindi come dicevo prima in questo momento è andato, il prezzo è andato praticamente ad appoggiarsi su un livello supportivo molto interessante, vedete dove è l'ultima volta in cui vedete è partito questo pullback, quindi l'ha rotto pullback e poi è partito l'ultima movimentazione al rialzo fino a raggiungere il massimo del 3 maggio, nella giornata del 3 maggio esattamente ad 12.460. Quindi siamo in area 11.870, 11.840, quindi sono 30 punti, vedete dove in questa zona c'è stato l'ultimo strappo rialzista, siamo arrivati quindi, tirando le somme, siamo arrivati su questa zona, già la candela che si sta formando a 4 ore, l'ultima candela sul grafico a 4 ore che si sta formando, sta andando e è andato già ad identificare un punto di swing, vedete primo movimento, secondo a falsa rottura, quindi questa situazione potrebbe andare ad identificare un pullback prima di una successiva discesa. Il pullback molto probabilmente potrebbe terminare in zona cluster, abbiamo indicato questa zona cluster tra il 50 e 61.8, a 12.025, 12.068, dove in pratica passa a 12.040, passa anche questo livello di prezzo. Quindi questa è una zona molto interessante, da qua potrebbe quindi partire dopo questa correzione, vedete come correzioni abbastanza simmetriche per quanto riguarda il DAX, dopo questa correzione da questa zona potrebbe ritornare un'altra volta all'interno del trend di fondo che al momento resta ribassista. Bene, questo è la lettura tecnografica per quanto riguarda il DAX, in questo momento vedete abbiamo un'operazione buy con un doppio target. Mentre invece per quanto riguarda il Dow Jones, ottimi spunti operativi durante la giornata, abbiamo preso profitto, abbiamo praticamente preso diversi punti, siamo entrati diverse volte al mercato, quindi in pratica abbiamo da questa zona, dopo che il prezzo è riuscito a raggiungere al breakout di questa zona, siamo entrati al mercato ed praticamente queste sono le operazioni chiuse oggi 13 maggio, eccole qua. Praticamente per quanto riguarda appunto i Dow Jones, l'operazione 26 e 27, abbiamo raggiunto per la prima operazione 76 punti, poi spostando lo stop loss a break even per le altre due operazioni è stato chiuso i TP2 e TP3 a pari. Quindi poi siccome c'era ancora la possibilità di ulteriori operazioni SER, siamo rientrati al mercato ed con l'operazione i27 abbiamo raggiunto il primo target a 25.630, il secondo target a 25.475, quindi 211 punti e poi abbiamo chiuso la terza operazione a 290 punti con 557 punti. In totale nel mese di maggio per quanto riguarda le operazioni nel diario di training riferito agli indici abbiamo raggiunto 2146 punti. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata al valutario abbiamo 40 operazioni in attivo, alcune già sono state chiuse per un totale di 2758 punti già in cassa ultima operazione che tra un po' andremo a vedere è un sell sull'oro. Ma bene, continuiamo però con le varie operazioni poi dopo il Dow Jones e il DAX ancora a mercato abbiamo operato anche su US crude oil dove abbiamo messo due operazioni eccole qua, le due operazioni che hanno fruttato prima un'operazione long sulla correzione, eccola qua la correzione e poi ci siamo girati sell. Queste due operazioni, adesso le vado a spiegare praticamente ho tracciato Fibonacci all'ultimo massimo, all'ultimo minimo partendo dal giornaliero giornaliero praticamente vedete come è andato a riprendere il pv mensile a 63.43 andando a tracciare Fibonacci all'ultimo massimo, all'ultimo minimo sono andato ad individuare una zona cluster rappresentato dalla zona 50, 61.8 di Fibonacci, 64.05, 63.29 dove passa un livello annuale il pv mensile e un altro livello di prezzo a 63.80 quindi abbiamo diverse conformazioni tecnico-grafiche dove qua ci potrebbe stare un rimbalzo. Quindi prima long e poi short. Questa situazione poi è stata analizzata per poter avere un ottimo timing di ingresso a mercato in ottica H4, quindi alla rottura di sopra il pv settimanale siamo entrati sell buy a mercato ed abbiamo chiuso le prime due operazioni e poi ci siamo girati al test del 50, ovvero 63.29 che abbiamo visto sul giornaliero, plottato su H4, ci siamo girati sell. Queste sono le due operazioni, andiamo a vedere un po' le chiusure, eccole qua. US crude, l'operazione 35, qua abbiamo raggiunto 151 punti, 53 punti, primo target a 62.85, 63.30 a 98 punti, 151 punti sulla correzione. Dopo, raggiunto l'area cluster, l'area di possibile storno, un ritorno alle vendite, eccola qua. Questa è l'operazione 6 stop dove praticamente al momento abbiamo raggiunto già il primo target a 61.85, quindi 100 punti, abbiamo spostato lo stop loss a breakeven ed in questo momento la seconda operazione si trova a 176 punti al test di area 61. Alla rottura di questo area 61 potrebbe raggiungere S1. Bene, questa è la situazione per quanto riguarda quindi l'operazione su US crude, poi andiamo a vedere per quanto riguarda altre operazioni chiusi, New Zealand Yen, abbiamo chiuso due operazioni, primo target 25 punti, secondo target 50 punti, adesso l'operazione, quindi abbiamo ancora un terzo target posizionato al di sopra in area 71.30 a pochi punti, sopra il livello di prezzo a in area 71.25. Per quanto riguarda invece altre operazioni a mercato, interessante seguire il gold, gold in ottica H1, abbiamo un pattern armonico, un attimo che si attiva il grafico, quindi abbiamo questo pattern armonico, eccolo qui, ad una bearish depth grab dove praticamente il punto D si trova in zona di resistenza 1298.40, 1298.50, da questa zona quindi potrebbe partire una possibile movimentazione a ribasso e quindi abbiamo posizionato, ovviamente essendo un'operazione di ottica intraday, abbiamo posizionato, abbiamo diviso l'operazione per tre target, il primo target, eccolo qua, primo target ad 1305 stop loss, 64.50, 1295, primo target 35.50, poi secondo target 1292 65.50, terzo target 1288 a 105.50, quarto target a 1280 185.50, quindi non resta che attendere quello che succede prossimamente, questa è la situazione su H4, bene, poi andiamo a vedere invece Euro-Dollaro, Euro-Dollaro che al momento, nonostante la fase di rimbalzo che ha un po' colpito, vedete, dopo aver raggiunto quasi l'ultimo massimo relativo e precisamente ad 1.26.60 il prezzo poi sono intervenuti maggiormente i venditori, adesso si trova all'interno quindi nel range di movimentazione della candela di venerdì, però diciamo che la situazione è molto interessante che dopo che il prezzo non è mai riuscito a superare per diversi giorni, vedete, falsa rottura, falsa rottura, falsa rottura, altra falsa rottura, per diversi si è mantenuto sotto 1.12.15, è riuscito a restare, quindi proprio venerdì ha rotto a breakout sopra 1.12.15, quindi molto probabilmente dobbiamo attendere un breakout degli ultimi zone di massimo per poter avere maggiore spazio libero per operazioni di vendita. Bene, per questa sera è tutto, grazie mille per la vostra attenzione, vi rinnovo l'appuntamento per domani mattina, la seconda diretta live della giornata della settimana, la seconda diretta live mattutina della settimana alle ore 8.30. Grazie mille e buonasera da tutti.